E' un po' divertente. Chi vuoi essere se vuoi diventare chi vuoi essere davvero? Penso che cambierò il mio nome in Elton. Quello è il mio nome. Sì, lo so. Puoi diventare l'artista più famoso del mondo se vuoi. Compro qualcosa di vistoso. Ma puoi suonare il piano con questi? Fagli vedere chi sei. Perché mi canti e basta senza questo ridicolo armamentario? La gente non paga per vedere Reggie Dwight, paga per vedere Elton John. Scusa. Certo. Non ti preoccupi della pressione che ho addosso. Non molto. Prenderò comunque il mio 20% dopo che ti sarai ucciso. Forse dovevo essere più normale. Non sei mai stato normale. Da bambino eri veramente timido. Ma guardati ora. Sapete qual è il primo lungometraggio della storia? The Story of the Kelly Gang del 1906 con i suoi 60 minuti di durata e 1350 metri di pellicola. Il film era la biografia del celebre bandito Ned Kelly. Invece l'anno migliore per il cinema italiano, sapete qual è? Si va indietro. Il 1913 con più di 800 film prodotti e distribuiti. Le cose sono un po' cambiate, sì. Di ricordo che ci trovate anche su TikTok, potete seguirci anche lì e trovate il link qui sotto nell'info box. Ciao da Valeria.